Le sentinelle dei rifiuti hanno fatto tappa al mercato di Corso Cincinnato. Le nostre telecamere hanno potuto osservare che il trattamento e la raccolta dei rifiuti vengono svolte secondo gli stessi schemi in uso negli altri mercati. Anche in Corso Cincinnato i cassonetti dell'organico non contengono solo gli scarti dei banchi dell'ortofrutta. Infatti vengono gettati in questi bidoni rifiuti ulteriormente differenziabili, come imballaggi in plastica e cartone. La differenza maggiore riscontrata riguarda la gestione delle cassette di legno e plastica. Queste vengono raccolte in quattro diverse aree del mercato, opportunamente delimitate da bidoni e da segnaletica. Nonostante questo sono ben visibili parecchi errori. Il maggiore è il posizionamento stesso delle cassette, che arrivano a occupare un tratto di pista ciclabile ostruendo il passaggio dei ciclisti. Gli ambulanti intervistati sostengono che la raccolta differenziata in Corso Cincinnato può essere ancora migliorata. Secondo loro servirebbero indicazioni più dettagliate per suddividere al meglio i materiali di scarto. L'impressione generale è che una maggiore cooperazione porterebbe a risultati certi e immediati.